ma tu quanto ti si bella go frecci fa un po frecci ha detto che veniva a far freddo stamattina chi l'ha detto tu ascolti un po troppo a televisione secondo me ma io non lo ascolto come fa ad essere qui una noce l'hanno portato i soldatini dei topi ma cosa fai con quella noce adesso? guarda è buonissima perché lo prendono i corvi e poi lo fanno cadere perché si rompono sono furbi eh i corvi guarda che io conosco dei corvi veramente veramente furbi eh si vengono lì a mangiare tutta la roba dei gatti devi curarli perché tu vengono sempre a mangiare la roba dei gatti perché il papà diceva anche lui guardalo lì quello lì non viene più a casa mia però lì è il micio? ma è il micio che mi accompagnava sempre ma lui era quello che era sempre di fianco a te eh si ma però adesso non viene più ci date da mangiare voi lui non viene più sai dal giorno che non è venuto più? io non ho io non ho